ciao raga bentornati sul mio canale youtube oggi a gran richiesta torno a un video in cui andiamo a analizzare tattiche e istruzioni non di uno ma addirittura di due moduli e sto parlando del 4 1 2 1 2 e del 4 3 1 2 quindi sono due schieramenti tipici ad albero di natale rombo così chiamati e sono validissimi sia su ps4 che su ps5 al limite vi do qualche piccola correzione da fare su ps4 qualora non vi troviate con quelle generiche e parliamo di due formazioni che secondo me sono tornate molto interessanti al netto del live update della pace che ci sono state settimana scorsa detto ciò senza perdere troppo tempo andiamo a vedere subito la prima formazione eccoci qua dunque e partiamo proprio dal 4 1 2 1 2 proprio il rombo per eccellenza qual è la caratteristica di questo modulo è un modulo che ha tutti i giocatori praticamente concentrati nella parte mediana del campo quindi qual è il nostro obiettivo il nostro obiettivo è quello di cercare di difenderci e poi di ripartire con questa serie di scambi veloci palle lunghe 1 2 3 nostri giocatori che saranno l'uno vicino all'altro e quindi ci permetteranno di poter fare queste triangolazioni rapide per poter poi ripartire alla velocità della luce e arrivare in porta con pochissimi tocchi quindi quali sono le caratteristiche fondamentali dei giocatori che troviamo in questa formazione innanzitutto dobbiamo avere per quanto riguarda la linea difensiva due difensori centrali che sono abbastanza veloci e anche ovviamente molto fisici in quanto devono tenere gli attaccanti che ci vanno alle spalle quanto ai terzini è preferibile avere due giocatori che comunque sanno toccare bene la palla quindi in questo caso io utilizzo canse lo è quadrato che insomma sono perfetti per fare questo perché spesso e volentieri in situazioni di difficoltà i terzini sono le nostre risorse in più per creare superiorità numerica quindi un giocatore che vi permette di poter portare parla su già da dietro ovviamente scarica questo peso e questo onere ai nostri centrocampisti e ci permette di poter fare superiorità numerica quindi occhio anche ai terzini nella scelta dei giocatori da andare a comprare per quanto riguarda invece il centrocampo partiamo dal centrocampista più arretrato che deve essere un mediano puro quindi un giocatore che è in grado di difendere poi se sa anche impostare tanto meglio ma il nostro focus è più quello della difesa quindi un giocatore alla pt alla cantè alla viera ecco anche alla fofanà alla chiuameni giocatori di questo stampo alla che si mentre per quanto riguarda invece le nostre due mezze ali possiamo regolarci in due modi o possiamo andare a utilizzare due centrocampisti box to box quindi che permettono di alternare la fase difensiva anche ad una buona fase offensiva oppure possiamo andare ad utilizzare soprattutto nell'ipotesi in cui questa formazione non è la nostra formazione principale ma l'adattiamo in partita o comunque ci piace variare ad un centrocampista box to box anche un giocatore offensivo come vedete in questo caso neymar ma per esempio può essere utilissimo anche un messi per sfruttare le sue doti di passaggio e di tiro a giro quindi queste le caratteristiche per quanto riguarda le due mezze ali per quanto riguarda al nostro trequartista invece è essenziale avere un giocatore molto agile un ottimo passatore deve essere se poi ovviamente è in grado di finalizzare tanto meglio perché il nostro trequartista sarà l'uomo in più all'interno dell'area di rigore per togliere i difensori dalle nostre due punte e io preferisco avere un giocatore che abbia 5 stelle di skill per avere quel pizzico di imprevedibilità in più che aiuta sempre quanto alle due punte abbiamo bisogno di due giocatori che sono estremamente rapidi che noi possiamo andare a lanciare in campo aperto con le palle lunghe che noi possiamo sfruttare con gli speed boost che noi possiamo sfruttare all'interno dell'area di rigore con i micro movimenti in quanto molto agili uno dei due per me è fondamentale che abbia 5 di pede debole per far sì che insomma possa disorientare i difensori senza dare punto di riferimento e un l'altro deve avere almeno 5 di skill per lo stesso motivo quindi queste quelle che sono le caratteristiche principali degli interpreti che andiamo a mettere in campo per quanto riguarda le tattiche invece sullo stile difensivo io utilizzo equilibrato equilibrato perché si può anche andare ad utilizzare un pressing sul primo controllo magari se vi trovate in divisioni più o meno dalla ultima fino alla quarta barra terza dove magari beccate dei giocatori che il pressing non sanno destreggiarlo molto bene ma già se arrivate in terza alta barra 2 fino all'elite col pressing o con questo modulo rischiate di rimanere troppo scoperti quindi fate attenzione ampiezza 50 per evitare di creare voragini in mezzo al campo invece la profondità utilizzo 70 perché quest'anno ormai le difese stanno altissime già di loro quindi cercare di schiacciarle con una profondità troppo bassa onestamente non mi sembra una scelta intelligente e poi con un modulo come questo il nostro obiettivo è quello di ricercare di recuperare il pallone quanto più alti possibili per innescare la nostra lanatella di passaggi veloci e cercare di arrivare in porta con questi scambi rapidi e a tal proposito proprio in materia di scambi rapidi per quanto riguarda la costruzione della manovra utilizzo manovra veloce che come dice appunto il preset questa tattica fa avanzare i giocatori per costruire più velocemente la manovra occhio però a non perdere palla perché potremmo essere vulnerabili infatti nel momento in cui andiamo a perdere palla in una zona pericolosa del campo dobbiamo stare molto attenti poi in fase difensiva perché altrimenti potremmo essere scoperti perché la nostra manovra veloce avrà tirato su tutti i nostri giocatori alla ricerca di questa profondità e questi scambi rapidi come vedete anche nel campo e nell'esempio lì sulla destra per quanto riguarda la creazione occasioni utilizzo passaggi diretti perché andando ad utilizzare passaggi diretti i nostri giocatori cercheranno di essere molto più attivi in maniera tale da smarcarsi buttarsi dentro offrire le linee di passaggio a quelle che sono gli ulteriori movimenti dei nostri giocatori ampiezza invece vado ad utilizzare 40 perché ovviamente non voglio che i miei giocatori siano distanti ma devono essere vicini attaccati per far sì che queste triangolazioni questi 12 vadano in porto con giocatori in aria invece tre perché dentro l'aria ho bisogno che si vadano a buttare pre per lo più solamente le due punte e il trequartista gli altri giocatori devono arrivare da fuori a fare ragnatela di passaggi proprio per trovare lo spazio per i nostri giocatori offensivi per quanto riguarda le istruzioni partendo dalla linea di difesa i due terzini o resta dietro in attacco e sovrapponiti sovrapponiti non vuol dire partecipa all'attacco ma vuol dire che quando andranno magari ad essere chiamati da voi a fare una sovrapposizione non l'andranno a fare per vie interne ma per vie esterne quindi cercheranno di aggirare il terzino all'esterno avversario offrendovi una linea di passaggio molto più pulita per quanto riguarda invece il mediano utilizzo copertura al centro e resta dietro in attacco che ho dimenticato di mettere ma la potenza di questo modulo ve la spiego in fase difensiva con le prossime due istruzioni perché sul centrocampista un po più box to box vado a mettere resta dietro in attacco mentre sul centrocampista un po più offensivo o sul giocatore offensivo adattato vado a mettere avanza ma la cosa fondamentale è copertura sulle fasce perché copertura sulle fasce perché se noi andiamo a porre questa istruzione in fase difensiva il rombo ci diviene un 4 4 2 con peti che viene affiancato dal coc che torna anche lui in difesa e le due mezze ali che si aprono sull'esterno e quindi in fase difensiva non andremo a subire moduli larghi come un 4 4 2 o un 4 2 3 1 perché avremo l'aiuto delle mezze ali che si allargano a coprire quindi fondamentalissimo rega copertura sulle fasce altrimenti andate in sofferenza quindi dicevo per il trequartista invece utilizziamo rientra in difesa ed entra in area per il cross sulle due punte invece semplicemente rimane in avanti questo per quale motivo perché qualora andassimo a mettere inserisciti alle spalle le due punte scatterebbero da solo in automatico andando a creare troppa distanza tra i reparti magari io sto ancora costruendo l'azione col mediano mi sono partite già le due punte quando la palla arriva al trequartista magari sono finita in fuorigioco e diciamo che si spegne l'effetto wow di questo modulo in fase di ripartenza costricendogli a dover tornare indietro e perdere quella frazione di secondo che in realtà potrebbe tornarci utile per essere pericolosi quindi me le vado a giocare così piccola nota sul coc qualora non vi troviate con rientra in difesa potete portarlo anche voi senza l'istruzione così se non vi è servito lo lasciate avanti con rimane in avanti perché magari potreste fare fatica se costruite l'azione in maniera diversa senza il punto di riferimento centrale che il vostro trequartista quindi valutate anche se per me è fondamentale per ricostruire il 442 in fase difensiva quanto al piccolo accorgimento da fare su ps4 se non vi trovate volevo dire che per quanto riguarda l'ampiezza andrei a mettere qualcosa di ridotto quindi tipo un 45 e sulla profondità invece un 55 questo perché su ps4 gli spazi sono più ampi anche se comunque con gli ultimi aggiornamenti c'è stata un po di introduzione di cpu da quello che mi avete detto quindi questo per quanto riguarda il 41212 per quanto riguarda il 4312 invece le differenze sono veramente minime cos'è che va a cambiare tra queste due formazioni il fatto che le mezze ali siano molto più strette rispetto al mediano che anche in una posizione un po più avanzata quindi da ulteriore supporto quindi che cosa faccio in questo caso vado a ridurre l'ampiezza difensiva perché tanto i giocatori sono ulteriormente stretti e vado a fare densità lascio 70 di profondità vado a togliere manovra veloce perché tanto ho già quel giocatore un po più avanzato non ho bisogno di chiamarmelo io con la manovra veloce a salire per dare una mano passaggi diretti lo lascio e vado ad aumentare leggermente l'ampiezza per evitare che comunque i giocatori finiscano col prestarsi un po troppo ai piedi alzo anche per lo stesso motivo una tacchetta di giocatori in area e le istruzioni sono esattamente lo stesse quindi resta dietro sovrapponi teterzini resta dietro copia al centro al mediano avanza al centrocampista più offensivo con copri sulle fasce resta dietro e copri sulle fasce al centrocampista box to box rientra in difesa entra in area per il cross per il nostro trequartista e rimane avanti per le nostre due punte quindi queste sono le istruzioni del 4 3 1 2 come potete vedere alla fine non differiscono molto dal 4 1 2 1 2 ma è solo una piccola sfumatura per via della posizione del mediano quindi niente raga per questo video è tutto fatemi sapere se proverete queste tattiche nei commenti cerchiamo di argomentare se avete provato o meno queste due formazioni in descrizione trovate il link della piattaforma viola dove sono live ogni giorno io vi auguro una buona giornata anzatona riberoschi ciao 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 ciao